Sbarchi senza sosta a Lampedusa, il sindaco proclama lo stato di emergenza, oggi in programma altri trasferimenti, bloccare le partenze ribadisce la Premier Meloni. Nuovo blitz delle Forze dell'Ordine, Caivano, in campo 400 agenti tra Polizia, Carabinieri e Finanza, rafforzata la scorta al prete antimafia Don Patriciello. La cultura entra a far parte della collezione della Galleria dell'Accademia di Firenze, il crocifisso Corsi. Buongiorno, ben ritrovati, edizione delle 12 del Tg2000, dunque in apertura l'emergenza migranti, sono oltre 4.000 gli ospiti dell'hotspot a Lampedusa e oggi ci sono in programma altri trasferimenti. Facciamo il punto con Elena Aseno. Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa, ma stamane sono ripresi tre le imbarcazioni giunte con 135 persone, due natanti sono stati intercettati e soccorsi dalla Guardia di Finanza. C'è poco spazio al molo Favarolo per l'approdo tra i barconi arrivati in precedenza. Giorni drammatici, quelli vissuti sull'isola dove oggi è lutto cittadino per la piccola di 5 mesi, annegata per il ribaltamento della barca su cui viaggiava con la madre durante un'operazione di salvataggio. Stasera ci saranno anche un momento di raccoglimento e una fiaccolata e non mancano a Lampedusa gesti di umanità come quello compiuto da un vigile del fuoco. Ieri sera accolto in casa sua una decina di migranti del Burkina Faso che erano affamati, si erano allontanati dall'hotspot in cerca di cibo. Massiccio il piano di trasferimenti dal centro di accoglienza si è passati da 7.000 presenze a 4.200 di stamane. Sui momenti di tensione registrati è intervenuta anche la questura di Agrigento che ha smentito scontri tra le forze dell'ordine e i migranti. Intanto l'Italia chiede di non essere lasciata sola. Il ministro degli esseri italiani in un'intervista al Corriere della Sera parla di una situazione che peggiorerà e della richiesta di un piano con l'Unione Europea, G20 e Nazioni Unite. Per la Premier Meloni la questione non sono i ricollocamenti sui quali pesa lo stop di Francia e Germania ma la necessità di fermare gli arrivi. E andiamo ora dall'altra parte del Mediterraneo e apriamo la pagina drammatica che stanno vivendo Libia e Marocco con migliaia di morti e di sfollati. Raffaella Frullone. In Marocco il bilancio del terremoto che ha colpito il paese continua a non essere definitivo. 2.946 le vittime, 5.674 i feriti, migliaia le persone rimaste senza casa. Nel campo militare di Asni sono state allestite tende dormitori ma anche presidi ospedalieri chirurgici per i feriti così come punti di supporto psicologico per i più piccoli. I bambini sono traumatizzati, spiega questa donna. Alcuni sono malati, altri soffrono di tonsillite o mal di testa. Alcuni sono svenuti a causa del forte stress. Mia figlia è traumatizzata perché i suoi occhi sono stati danneggiati, spiega ancora quest'uomo. Ringraziamo Dio che non sia andata, peggio di così. Drammatica la situazione anche in Libia dove è salito ad almeno 5.500 vittime il bilancio dei morti, 7.000 i feriti, 10.000 i dispersi a causa delle inondazioni. Nella città di Derna si temono fino a 20.000 vittime col mare che continua a restituire corpi. Chiunque si trovava nella valle è stato spazzato via, racconta quest'uomo, ci siamo svegliati in una vera catastrofe, ci siamo svegliati e non abbiamo più trovato nessuno. I soccorritori che stanno operando a Derna hanno lanciato l'appello per ulteriori sacchi per i cadaveri allo scopo di evitare le epidemie. Gli aiuti internazionali stanno lentamente iniziando a raggiungere la città portuale dopo che la tempesta ha colpito la costa settentrionale del paese sabato notte. Neanche l'Ucraina trova pace, Mosca rafforza i legami con la Corea del Nord. In programma c'è una visita di Putin a Kim Jong-un. Sentiamo Fabio Bolzetta. Un'asse sempre più stretto, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a visitare la Corea del Nord. E' accaduto durante l'incontro nell'estremo russo di ieri, concluso con la cena ufficiale che ha suggellato anche mediaticamente il legame tra i due leader. Una visita possibile con la confinante Corea del Nord per Putin su cui pende un mandato di arresto della Corte Penale internazionale. I media statali di Pyongyang hanno confermato che Kim è pronta a offrire al Cremlino armi e munizioni per la guerra in Ucraina e a promuovere relazioni stabili per i prossimi 100 anni. Intanto in Ucraina continua la guerra sul campo. Un bambino di 6 anni è stato ucciso in un attacco notturno di Mosca nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Il fratello di 13 anni e 3 adulti sono rimasti feriti. Mosca intanto ha rivendicato la distruzione di droni ucraini contro la Crimea e le regioni di Belgorod e Bryansk. Abbiamo abbattuto 17 droni russi, ha fatto sapere invece Kiev. Si combatte a terra ma anche nelle acque del Mar Nero, dove la nave russa Sergei Kotov è stata difesa dall'attacco ucraino di droni, ha denunciato il Cremlino. Colpito il cantiere navale di Sebastopoli, secondo quanto filtra dall'intelligence ucraina, mentre sarebbe stato distrutto il punto di controllo dei veicoli aerei senza pilota di Kiev nel Donetsk. Tensione nel Mar della Cina. Taiwan registra 68 aerei e 10 navi militari cinesi intorno all'isola. Le pressioni e le minacce a Taiwan adesso sarebbero riconducibili al passaggio nello stretto di cacciator pedinieri statunitensi. E prosegue in Cina, la missione di pace del cardinale Zuppi, l'inviato di Papa Francesco, oggi incontrerà il rappresentante del governo per gli affari euroasiatici. La portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato che Pechino è pronta a lavorare con tutti per la distensione della situazione internazionale. La strage di Brandizzo sale a 6, il numero degli indagati. L'ipotesi è quella di omicidio colposo. In mattinata il Ministro Salvini ha parlato alla Camera. Sentiamo Augusto Cantelmi. La mia personale vicinanza, la vicinanza è tutta l'aula, i familiari di Kevin, Giuseppe, Michael. Giuseppe e Giuseppe, le cinque vittime del tragico incidente dello scorso 30 agosto. Così il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nell'informativa alla Camera sull'incidente alla stazione ferroviaria di Brandizzo che a fine agosto ha causato la morte di cinque operai. Per Salvini il fattore umano resta ancora determinante in tutti i campi. Nel contesto della manutenzione, sottolinea il Ministro, non esistono ad oggi tecnologie totalmente sicure e affidabili che consentano di prescindere dal corretto comportamento delle persone. Per il leader del carroccio, tuttavia, non esiste alcuna correlazione tra l'incidente e il nuovo codice degli appalti. Nulla restituirà i cari a queste famiglie. Le responsabilità che emergeranno non potranno evidentemente rimanere impunite. Intanto le indagini vanno avanti. Nel registro degli indagati sono stati scritti anche quattro dirigenti della SIGIFER, l'azienda di Borgo Vercelli, per cui lavoravano le vittime anche per loro, che si uniscono alle altre due persone già indagate. L'ipotesi di reato avanzata dalla procura di Ivrea è omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Ancora vittime sul lavoro, muoiono due operai oggi. Il primo a Bologna schiacciato da un mezzo mentre lavorava in aeroporto e il secondo nel napoletano è caduto da un tetto mentre installava pannelli fotovoltaici. E lo scoppio di una caldaia nella scuola di via degli anemoni a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle nove e mezza. Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare. Nuovo blitz dei Interforze a Caivano. In campo oltre 400 uomini e anche due elicotteri rafforzata. La scorta al parroco antimafia Don Patriciello. Sentiamo Letizia Davoli. La Premier Meloni lo aveva annunciato. Non ci faremo intimidire dall'estese e risponderemo colpo su colpo. E così è stato. Questa mattina all'alba Caivano è scattato un nuovo blitz delle forze dell'ordine. In campo oltre 400 uomini e donne tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ma all'interno dell'ormai tristemente noto Parco Verde anche diversi reparti specializzati come l'unità cinofila antidroga, antiterrorismo e per la ricerca di armi. A controllare dall'alto la nuova vasta operazione, due elicotteri di polizia e fiamme gialle. Una operazione imponente ancora in corso alla quale si è unito il rafforzamento della protezione dopo gli ultimi fatti di cronaca a Don Maurizio Patriciello, il parroco del parco, d'anni in lotta contro la camorra che comanda tutta l'area. Ieri sera, durante un incontro di preghiera, il grido di aiuto dei fedeli libera, signore, la nostra comunità dai flagelli della violenza e della droga. Una piaga sempre più profonda, secondo l'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre del 2022, la DIA ha confiscato alla mafia beni per 181 milioni di euro rispetto ai 43 dei primi sei mesi dello scorso anno, di cui quasi 7 milioni alla camorra, che opera nel territorio campano e che rivolge sempre più le proprie attività criminali, si legge nel rapporto, alle ingerenze all'interno della pubblica amministrazione per condizionarne e regolare i processi decisionali per l'affidamento degli appalti pubblici. E si aggravano le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro. Lo staff medico dell'ospedale dell'Aquila ha deciso di avviare la terapia del dolore con nutrizione per endovena e sospendere la chemioterapia. Il boss mafioso, lo ricordiamo, è affetto da un tumore al colon. Piemonte, Puglia e Umbria si aggiungono oggi alle altre otto regioni in cui la protezione civile sta sperimentando il sistema di allarme contro le catastrofi naturali. Antonella Mazza. Prosegue la sperimentazione dell'innovativo sistema di allarme della protezione civile dopo Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna e ancora Campania, Friuli, Venezia, Giulia e Marche. Ora è la volta di altre regioni. In Piemonte, Puglia e Umbria in questi minuti, intorno a mezzogiorno, i cittadini ricevono sui propri cellulari accompagnato da un insolito suono un messaggio di testa con l'invito a connettersi al sito IT Alert e rispondere in forma anonima il questionario per conoscere e migliorare uno strumento introdotto in Italia nel 2019 in base a una direttiva europea di allarme pubblico in caso di catastrofi imminenti o già in corso. Non è necessario scaricare alcuna app e non si riceverà alcun avviso se i portatili sono spenti o privi di campo così potrebbero non suonare se sono silenziati. Ancora in fase di verifica, il sistema di allarme ha l'obiettivo di raggiungere capillarmente e rapidamente le popolazioni locali per fornire prime informazioni su possibili situazioni di pericolo. Entro fine anno sarà testato su tutto il territorio nazionale ma i successivi passaggi restano ancora da definire. È in arrivo un assaggio di autunno entro questa sera in pianura padana sono previste temperature in discesa e piogge. Al centro Italia invece la giornata sarà caratterizzata da bel tempo quasi ovunque e attesi solo leggeri temporali su Umbria e Marche. Soleggiato invece il Sud Italia. Lo sport parte male l'Italia del tennis con un KO 3 a 0 contro il Canada nella prima sfida dei gironi di Coppa Davis dopo le sconfitte nei singolari di Sonego e Musetti a Bologna il duo composto da Bolelli e dall'esordiente Arnaldi ha ceduto ai canadesi. Domani c'è il Cile. Ed ora invece andiamo a Firenze per parlare di arte perché è entrato a far parte della collezione della galleria dell'Accademia di Firenze il crocifisso Corsi. Ce ne parla Clara Iatosti. Un'opera splendida veramente squisita che abbiamo esposto ovviamente a un trattamento di annossia per evitare che degli eventuali tarli potessero danneggiare anche le altre opere ed è un crocifisso bellissimo del maestro del crocifisso Corsi ed è proprio questo che dà il nome al pittore. Apparteniamo a un grande mercante forse il più grande mercante di fondi oro del secolo scorso Carlo de Carlo. Io ebbi la fortuna di poterlo acquistare in una collezione milanese appunto 15 anni fa e dopo 15 anni fa con grande soddisfazione oggi rivedo questo oggetto dentro un museo dell'Accademia che è il museo più importante di pittura del 300 che abbiamo in Italia. Una qualità eccelsa di questa pittura proprio un'esecuzione molto molto lussuosa cioè vediamo la parte pittorica retrostante al crocifisso sul tabellone che è sull'amina d'argento quindi molto prezioso mentre il drappeggio del perizoma con degli ori dentro e soprattutto questo tessuto che viene messo proprio dipinto sul tabellone è un tessuto con queste geometrie mediterranee che è il massimo del lusso che si poteva avere nel 2300 vi lasciamo con un'ultima notizia dopo 12 anni di direzione della civiltà cattolica e 25 di lavoro come scrittore padre Antonio Spadaro lascia l'incarico il santo padre infatti lo ha nominato sottosegretario del di Castero per la cultura e l'educazione il religioso prenderà possesso dell'incarico il primo gennaio del 2024 nella direzione del quindicinale lo succederà padre Nuno da Silva Goncalaves e l'avvicendamento avverrà il prossimo primo ottobre con questo è tutto noi ci salutiamo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55 grazie per averci seguito e buon pranzo